Sono Michele Ficara, presidente di AssoDigitale, che è l'associazione che raccoglie l'industria digitale italiana, ovvero sia quelle imprese che del digitale ne fanno un business reale. Grazie a voi per aver ideato questo evento notevole per Milano, che porta Milano a essere sicuramente la capitale della cultura digitale. Devo dire che è stata molto interessante perché si è creato poi alla fine quello che era il vero dibattito, cioè tra il pubblico e i relatori, non solo una conferenza dove si racconta qualcosa, ma dove il pubblico, le persone dicono la loro. Oramai è più interessante forse il pubblico quasi che sta dall'altra parte che non i relatori, perché in realtà internet e il digitale ha portato a una consapevolezza che prima non c'era, quindi le persone ragionano, agiscono e soprattutto contestano, questa è la cosa importante, non più convegni di forma dove i relatori raccontano e il pubblico in silenzio ascolta, ma dove finalmente c'è confronto e dove le idee migliori nascono dal mashup delle due culture.